O si sono tutti rimbambiti a quinto di Treviso, ma io oggi ho parlato con dei cittadini di Eraclea, dei cittadini di Padova, il sindaco di Villorba, ma quello che sta succedendo lì sta succedendo in Piemonte, sta succedendo in Liguria, oppure è una precisa strategia per arricchire qualcuno e far esasperare la gente per bene, perché altrimenti non si spiega una demenza del genere da parte di prefetti, da parte di ministri che passano sulla testa dei sindaci, che passano sulla testa dei governatori di regione, c'è un paese della Bergamasca in Val Seriana che ha 100 abitanti e gli hanno mandato più di 100 profughi, quindi veramente mi viene il dubbio che qualcuno a Roma stia cercando lo scontro sociale, perché altrimenti non si spiegano scelte così imbecilli, a sabato sono in provincia di Verona, a Opeano, a festa della Lega, se riesco nel tardo pomeriggio mi recherò nelle zone del Brenta colpite dalla tromba d'anni, ho avuto modo di parlare oggi con il Presidente della Repubblica, Mattarella, visto che secondo me è una vergogna che tantissimi mezzi di informazione nazionali si siano dimenticati dopo poche ore di quello che è accaduto in Veneto con 400 sfollati e 200 milioni di Euro di danni, quindi sabato cercherò di fare possibile e impossibile.